Il mio maestro Carlo Di Palma diceva, io devo sapere tutto della tecnica, ma non sono un tecnico. Beh, in fondo è questo, capito? La tecnica uno la deve conoscere e poi gettarsela alle spalle e pensare al risultato. L'unica cosa che vale è quello che sta dentro quel rettangolo lì, che si è visto su un piccolo schermo, su un medio schermo, su un grande schermo, su un enorme schermo. Quella roba là è l'unica cosa che conta. Allora, io ti ho incrociato due volte in tutta la mia vita. La prima volta al microsalon di quest'anno e poi a seconda volta da Panalight. Lì è stato veramente un puro caso, perché devo fare l'intervista a Davide Manca e al mattino mi ho chiesto disponibilità a Proietti per incontrarlo. E poi lì ha detto, guarda che su c'è Carnera che sta facendo i provini. Mi insega veramente. Sui provini, tu che cosa guardi, cioè quando fai un provino tra una camera e l'altra, che cosa cerchi, come teori, quali sono le tue scelte? Ma quello dipende perché li faccio questi test. Ogni test che faccio ha delle ragioni diverse, perché sono in funzione di un obiettivo. In quello specifico caso io stavo facendo dei test preliminari a un film che si chiama White Tiger, che andrò a girare tra non molto in Indie. E' una produzione Netflix US per la regia di Ramin Barani, che è un regista indipendente estremamente interessante. Ha fatto un film bellissimo che si chiama 99 Homes e altri film molto belli tra cui Manpush Cart, Chop Shop, veramente Goodbye Solo. Ma è un regista di quelli tosti, che raccontano il mondo in maniera dura. Ora, io questi test li facevo per una doppia ragione. La prima è che avevo fatto una prima lista di materiale in cui semplicemente, conoscendo Ramin, ho detto giriamo in Alexa. E giriamo in Alexa e andiamo in giro per le notti dell'India, per i giorni dell'India. Netflix non accetta l'Alexa, perché non è un 4K full. Nemmeno la large format? E infatti. La large format, però noi abbiamo bisogno di agilità. Per il momento la large format, c'è solo, la grande, la large format esce in questi giorni. Proprio il giorno dei provini avevo in mano la prima mini presente in Italia, mini LF. Quindi ho trasformato questa lista in Alexa large format, con un optional, possibilità opzionale, se per caso mi facessero dei problemi, perché questa mini, ce ne sono pochi esemplari, è costosa, chiaramente bisogna usare le ottiche di grande formato, quindi tutto un po' cambia, il budget cambiava. Se mi mettevano degli ostacoli, ho testato, perché non avevo avuto modo di testare prima, la Venice, la Sony Venice. Poi è chiaro, uno può lavorare in Red, Monza, insomma ci sono varie possibilità di 4K. Poi 4K è una nozione business per Netflix, vende dei contratti 4K, quindi ha bisogno giustamente che i prodotti, i film, le serie che lei produce, che Netflix produce, siano 4K, perché sennò io compro un abbonamento 4K e tu non mi dai del 4K, tu non prendi del 4K origine, quindi capisco perfettamente dal punto di vista commerciale. Dal punto di vista del risultato, meno, perché in proiezione, non dico su un televisione, ma in proiezione io faccio fatica a vedere la differenza tra una Red 6K, una Venice 6K o 4K e una Lexa 3K e 2K. E se fai fatica tu? No, perché non sono i K il problema, cioè anche certamente la definizione è un valore aggiunto, ma poi ci sono tanti altri elementi che sono la profondità colore, i toni di grigio, sono il modo in cui un sensore cattura la luce, con che delicatezza o che durezza, come è elastico nella possibilità di interpretarlo in fase di color correction. E poi c'è l'agilità della macchina, quanto è pesante, quanto è leggera, quanto è ingombrante, quanto è piccola. La Venice c'ha questo modulo davanti che gli stacca. Il rialto. E' tutto da sperimentare, quindi la Venice ha delle buone possibilità. Poi però io prendo una macchina qua, vado in India, giro per quattro mesi, qualsiasi cosa succede, ho un problema a chi mi riferisco, a un noleggio italiano, a un noleggio inglese, a un noleggio tedesco, non avendo avrò una possibilità di intervento in India, ma a che livelli? E forse è meglio andare con uno strumento solido, che io conosco. E io lo dico questo per sincerità, ho girato talmente tanto in Alexa, che ho girato recentemente per Threatson, che è una serie americana, che è uno spin-off di Jason Bourne, ho girato alle isole Svalbard a meno 30 gradi, e Alexa macina e va, e non si ferma. Ho girato in Alexa per 000 nel deserto del Marocco, a 40 gradi, e Alexa va. Quindi so che ho uno strumento, non solo che io conosco, in cui posso girare a occhi chiusi, ma solido. Giro a Roma, cioè noleggio là, sperimento, tutto. A me ha colpito molto una cosa che ti ha proposto, Proietti, quando stavi valutando i diversi kit di ottiche, ti ha chiesto qual è il kit di ottiche che tu conosci meglio, per avere un riferimento in base a quelle nuove. Master Prime, sì. Master Prime, sì, Master Prime o Ultra Prime, ma Master Prime. Sì, perché cosa è successo? Vuol dire, è successo che quando io ho affrontato per la prima volta d'impatto il digitale, è stato per la prima stagione di Gomorra, e l'ho fatto pur avendo fatto dei test a paragone, non potevamo girare in 35, era troppo costoso. Abbiamo provato ad affrontare il Super 16, perché venivamo dall'esperienza, insieme con Stefano Solli, ma di romanzo criminale. A paragone Alexa e Super 16, di fatto ha vinto Alexa, come qualità d'immagine. E quanto abbia a che fare con questa vittoria, all'epoca di Alexa, se il trattamento, il laboratorio, il telecinema o lo scanner, si entra in un meandro di problemi che ha a che fare con l'attuale situazione dei laboratori italiani, dove non c'è più Technicolor, non c'è più Deluxe, non c'è più Cinecittà, che erano i grandi laboratori, dove c'è una dignitosissima, e, come dire, ancora con la tradizione artigiana dell'Augustus, è un po' fotocinema, e poi non c'è più niente, quindi è difficile poi sviluppare, essere sicuri che lo scanner sia preciso, insomma, quella fu l'esperienza di Gomorra, e Gomorra mi portò a lavorare all'epoca con gli Ultra Prime, che erano obiettivi piuttosto nuovi, ma non nuovissimi, perché sennò il budget esplodeva. Subito dopo Gomorra, o poco dopo Gomorra, insomma, diciamo che feci suburre il film, come Upgrade chiesi di lavorare nella stessa linea essendo un film, anche quello di un'ambientazione molto notturna, anche quello di ambiente criminale, anche quello come la serie di Gomorra con un aspetto action, però con un'aspirazione estetica più raffinata, in qualche modo meno brutale. Ho scelto di lavorare con i Master Prime, che sono obiettivi che grazie alla loro grandissima apertura hanno una limitatissima profondità di campo, e se lì lavori a 1-3, e con degli strepitosi assistenti focus puller che riescono a gestirli, hai anche una notevole dolcezza, inaspettata. Tutti dicono che sono delle lame di rasoio, non sono d'accordo. ho visto dei film tra cui Lussuria di colnofotografia di Rodrigo Prieto, estremamente dolci, fatti con i Master Prime. Dolci per la qualità dello sfocato? Per la qualità per come si appoggiano ai volti degli attori o degli attrici. e io ho lavorato senza pensarci e sono molto contento del risultato di Suburre. Uno dei film che tuttora mi lasciano, insomma, io quando rivedo le cose che ho fatto spesso sono molto critico. Alcune cose sono tuttora soddisfatto. Suburre è un film che amo molto, che mi ha dato molto, in cui ho imparato molto, e quindi i Master Prime sono rimasti nel mio cuore, con i Master Prime ho fatto 0,0,0, portandoli in una lunga serie. pensavo di fare con i Master Prime anche White Tiger e invece Alexa, large format, vediamo se riesco avercela, perché stiamo ancora lottando con il budget e quindi le lenti saranno altre. I Master Prime possono essere, come dire, idealmente un punto di riferimento, ma non li posso applicare, perché non coprono il largo formato, nei larghi, e quindi devo andare su altre lenti. A questo proposito ti avevo inviato l'intervista che ho fatto a Les Zellan, il chairman della CUC, dove abbiamo parlato anche del largo formato e lui dice che io perlomeno ho capito così che finché non c'è quella sensazione di capire la differenza tra un Super 35 e un largo formato dal pubblico non sarà mai non ci sarà mai un grande investimento in questo segmento e secondo lui tra dieci anni il 20% delle produzioni sarà largo formato ma l'80% rimarrà a Super 35 ma guarda non lo so perché è difficile capire come si muove il mondo produttivo in questo momento si sta muovendo su sulle piattaforme sulle piattaforme sull'esigenza delle piattaforme perciò c'è un'esplosione di serie tv e adesso c'è questa nuova apertura anche di film prodotti per Netflix Amazon e poi ci saranno altre piattaforme saranno ora questo rappresenta una grande novità per noi e questo è un altro discorso ma perché abbiamo la possibilità di essere visti velocemente se siamo fortunati nel mondo cosa che prima non era anche se faceva un film meraviglioso difficilmente veniva visto però rispetto a quello che diceva il cinema della cook io non lo so però credo che il largo formato è esploso per l'esigenza delle piattaforme e per una voglia dei cineasti di confrontarsi col grande schermo sul digitale in un modo con delle immagini che assomigliano a quelle della pellicola ancora inarrivabili o che aggiungono qualcosa allo stupore visivo all'emozione visiva dello spettatore queste due cose insieme sono molto importanti perché la seconda è il vero motore creativo emozionare lo spettatore per tutti noi quindi far arrivare un racconto non solo per la scrittura del racconto ma anche per per la visionarietà per la bellezza o la potenza che bellezza può essere anche l'estrema durezza di quello che stiamo vedendo e invece l'altro aspetto è quello è quello appunto della richiesta delle piattaforme del oggi del 4k ma domani sarà un'altra un'altra evoluzione perché i televisori saranno non più ultra hd ma ultra 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 ma non so quanto perché 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 avremmo i cinema a casa perché l'idea è quella di tristemente solitaria no da un certo punto di vista perché la condivisione di uno spettacolo è sempre una cosa bellissima è una socializzazione di un'esperienza di un'emozione e io spero che che continui all'infinito e che spero che 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 in italia ritorni ritornino le grandi sale però ci sono delle cose che hanno portato queste piattaforme per esempio stiamo finalmente vedendo sempre di più i film anche in sale in versione originale mi dispiace per i nostri bravissimi doppiatori ma sono felice di sentire gli attori con la loro voce e con la loro recitazione è come se venisse doppiata la mia fotografia madonna mia ma come ma cioè sarei in ferocita come sopportarlo come sopportarlo siamo noi in italia che abbiamo questa cosa qui del doppiaggio in modo così forte mi sembra che siamo gli ultimi però non lo so perché forse ci sono altri paesi in francia doppiano un pochino ma non hanno mai doppiato tantissimo in versione originale è sempre stato facile trovarlo tutti i film di lingua anglosassone ovviamente non doppiano li vedono in lingua anglosassone semmai avevano uno sbarramento che non vedevano i nostri film perché erano o doppiati o non amavano leggere i sottotitoli molto pigri molto pigri gli americani da questo punto di vista e probabilmente anche gli inglesi forse diciamo le piattaforme stanno vincendo qualche cosa anche per loro e queste barriere si stanno rompendo quindi i nostri film io so che amano molto i film cioè anche da questo punto di vista Gomorra è stata una rottura so che hanno i tedeschi hanno amato molto in napoletano come altri nel mondo i tedeschi dico i tedeschi perché beta film era coproduttrice e distributtrice internazionale non capivano un'emerita minchia del napoletano però hanno amato moltissimo la sonorità della lingua cioè oggi con netflix ci guardiamo delle serie tedesche spagnole e e se vogliamo in tedesco o in spagnolo cioè non pesa il fatto che non capiamo direttamente quello che dicono ci sono i sottotitoli e uno se li guarda comunque con grande piacere e per i doppiatori sarà una bella sfida nei prossimi anni beh c'è un adeguamento insomma ma mi sembra sano ripeto mi sembra sano perché perché sentire Robert De Niro Dustin Hoffman Al Pacino Brad Pitt perché sentirli con un'altra voce certo non lo so credo che non vuol dire mi sembra dire un'ovvietà che è molto meglio sentirli con la loro voce una cosa bella che dicevi sul micro salon era che con Gomorra con il fatto che l'ha girato in digitale e tu vedevi immediatamente quale era il risultato ti ha permesso di poter rischiare di più perché eri più consapevole di quello che ti stavi portando a casa questa è una riflessione che non ho mai sentito dire sul mondo del passaggio dalla pellicola al digitale non lo so io penso che le giovani generazioni di direttori della fotografia o di autori della fotografia questa cosa non la dicono perché forse non hanno vissuto a lungo la pellicola come l'ho vissuta io e quindi loro sono abituati a vedere e andare su quello che vedono io sono cresciuto e ho lavorato per 25 anni almeno intuendo quello che avrei visto poi man mano che acquisivo maggiore esperienza chiaramente io ero più sicuro di quello che avrei visto poi in proiezione mentre lo stavo girando sul set però era sempre una grande sorpresa la proiezione Dottanasio diceva che il Doppi una volta era il demiurgo era l'unico che aveva sotto mano la situazione era l'unico che sapeva dove si stava andando non lo sapeva neanche lui diciamo la verità lo sapeva più degli altri ma non lo sapeva neanche lui fino in fondo perché esisteva sempre credo che tutti andassero un po' col batticuore in proiezione tante variabili tante variabili e comunque cercavamo di bloccarle più possibile assicurandoci il miglior laboratorio i migliori collaboratori la migliore pellicola la migliore macchina a presa i migliori obiettivi per poi essere sicuri che stavamo bloccando nel senso che lo sviluppo era stabile che le informazioni che ci davano mentre eravamo lontani dal laboratorio erano sicure e affidabili che chi vedeva e ci diceva è bellissimo non stava facendoci un complimento ma era sincero cosa estremamente difficile ho apprezzato sempre molto i datori luce o quelli che mi dicevano attenzione Paolo questa scena non va bene perché pur se mi mettevano con un patema d'animo mi davano delle informazioni quelli che mi dicevano sempre è bello è bello è bello è bello insomma mi davano poche informazioni certo poi mi dicevano non va bene e io gli chiedevo perché e allora magari scoprivo delle volte ho scoperto che loro pensavano che non andasse bene ma in realtà io stavo seguendo un percorso fuori dalla norma che andava bene per me e che non gli avevo proprio magari interamente comunicato quindi era sempre relativo ma che sapessi esattamente cosa veniva fuori non so io ho messo in macchina l'internegativo che era sei asa o due asa di sensibilità per una scena bellissima di sangue vivo avevo bisogno di tantissima luce solo il sole se solo c'era una nuvola non riuscivo più a girare era meraviglioso fino a quando non ho telefonato al tecnico della Technicolor che stava seguendo il materiale che mi diceva tutto bene è venuto ma rischiavo di dover girare tutto perché era criminale insomma però queste cose sono bellissime e sono molto rischiose oggi lo posso fare certe cose senza molto patema d'animo perché lo vedo perché lo vedo sul monitor quindi posso essere più buio o più luminoso o più sfocato insomma con più profondità di campo o meno profondità di campo insomma posso fare posso fare delle cose posso usare come sto usando adesso nel nuovo film dei fratelli di innocenzo quattro serie di obiettivi diversi tutti vintage e come dire senza una grande logica solo intuizione rischiando incoerenza o coerenza creativa bah però è bellissimo poter fare una scena con una lente vintage anamorfica l'altra con una lente vintage sferica e un'altra con un 32 che sai che è sfocato da un lato perché è perché forse vuoi dare una sensazione diversa di disequilibrio allo spettatore e questo disequilibrio è una cosa che a volte ho cercato anche all'inizio quando girammo tutto a mano la serie di romanzo criminale erano gli inizi della moda della macchina a mano adesso girano tutti a mano pochissimi lo facevano per una serie intera infatti ci hanno detto anche ma siete matti però la sensazione poi è andata molto bene ma la voglia era quella di mettere un po' a disagio lo spettatore tenerlo sulle corde non essere è sempre una scommessa come dire stupire incuriosire più che stupire emozionare e agganciare l'interesse di occhi che sono abituati a vedere di tutto quindi c'è bisogno di essere estremamente coerenti nella ricerca visiva e anche di rischiare moltissimo ogni strada che penso si ripercorra di nuovo o già vista rischia di essere noiosa per noi che la facciamo e per chi la vede e se noi ci annoiamo sicuramente annoieremo chi la vede quindi i primi a non annoiarci quando facciamo delle cose dobbiamo essere noi e abbiamo in questo caso almeno una buona possibilità di poter non annoiare chi ci vede ecco questo nel micro santo dicevi il nostro mestiere è rischiare beh sì il nostro mestiere è rischiare non vorrei esagerare da questo punto di vista perché non è che uno deve rischiare a tutti i costi allora io credo che il nostro mestiere è innanzitutto essere coerenti col racconto che facciamo quindi la prima cosa è questa cioè noi dobbiamo innanzitutto raccontare molto bene una storia insieme al regista sempre insieme al regista poi poi dobbiamo anche fare altro e quest'altra cosa è andare a cercare sempre qualche cosa che vada più a fondo immagini più profonde a volte se il racconto ti dà la possibilità di farle immagini evocative io amo tutto ciò che o perlomeno cerco di no amo non solo cerco di amare amo tutto ciò che è arte visiva e quindi sono interessato all'arte contemporanea alla fotografia all'arte antica all'arte classica vedo e rivedo al cinema del passato e del presente e quindi quando vedo qualcosa che mi emoziona molto capisco che c'è là dentro qualche cosa che ha toccato delle mie corde personali innegabilmente io racconto qualche cosa di me quando faccio un film perché metto in gioco la mia creatività e quindi per metterla in gioco fino in fondo devo rischiare devo rischiare innanzitutto con me stesso ma non è rischiare rispetto a dei parametri di estetica convenzionale è un rischio interiore c'è un rischio c'è un esempio di rischio che ti sei preso e che ti è portato più in là quale potrebbe essere? beh per esempio quello che ti dicevo la sequenza iniziale di sangue vivo il sogno di Pino Zimba era girarlo con l'intermediate all'epoca era cercare di avere un'immagine straniante non vista precedentemente nemmeno da me stesso e l'ho fatto girare con degli obiettivi che sono sicuramente a tratti molto sfocati comunque anche se il mio assistente è bravissimo come sto facendo favolacce è un rischio fare delle scene così oscure o anche molto colorate o sempre abbastanza estreme come ho fatto nella prima stagione di Gomorra era un rischio girare a mano e con quella libertà tutta la serie romanzo criminale è stato un rischio e fare un film come Suburra come l'abbiamo fatto con Stefano con Solli ma con quella energia sotto la pioggia sempre bagnati tutte le notti fino all'alba e con questa ambizione di delegare nulla quasi nulla gli effetti speciali visivi ma realizzare sul set quando noi inquadravamo un cielo con un 18 mm un obiettivo molto largo ed era un totale e pioveva di rotto e Stefano mi diceva nell'angolo di estrema sinistra il fotogramma io non vedo la pioggia là c'è o non si vede e io sapevo che non si vedeva perché ogni millimetro di cielo di notte se si deve vedere la pioggia deve essere illuminata arrivare a fare questo era un rischio e sono tutti rischi che come dire abbiamo corso corso con con timore di non riuscire ad arrivare a raggiungere l'obiettivo alcuni li sto correndo adesso sarà un rischio andare a fare white tiger in India con pochi collaboratori una truppa totalmente indiana e una produzione che non conosco ma saranno dei professionisti strepitosi tutti questi sono rischi vuol dire è un rischio ogni volta che lavori su un terreno che non conosci bene ma il rischio più grande è quando cerchi di creare qualcosa di nuovo che non hai già fatto prima perché potresti fare qualcosa di più brutto di quello che hai fatto prima che non ti piace come dice il vecchio detto quando lasci la strada vecchia per la nuova sai quel che lasci ma non sai quel che trovi tante novità inizialmente non ti piacciono però poi riguardandole dopo x tempo in realtà le rivaluti quindi è anche relativo a quello cioè nell'immediato non ti convincono sì può essere alcune volte no proprio non mi piacciono continuano a non piacermi semplicemente ho fatto delle cose che non mi piacevano mi succede mi succede ed è naturale che sia così non tutti i film che ho fatto mi piacciono da un punto di vista visivo e poi onestamente ho fatto anche dei film che non mi piacciono come film però insomma questo è un altro discorso diciamo che invecchiando sono un po' più contento di quello che faccio però sono anche più esigente e quindi mi accontento meno facilmente e quindi divento un pochino più difficile per i miei collaboratori o anche per le produzioni perché sono più esigente in senso che ti arrabbi spesso sul set perché pretendi no io cerco di non arrabbiarmi però mi arrabbi cerco di arrabbiarmi il meno possibile però delle volte i miei collaboratori mi arrabbio perché perché penso che non mi capiscano e molto spesso invece semplicemente che non non mi sono spiegato bene perché penso che siano lenti beh perché sono impaziente di vedere i risultati quindi può succedere questo sono invecchiando e acquisendo esperienza sono diventato più veloce sicuramente più veloce nel realizzare le cose quindi pretendo che anche gli altri siano più veloci ma gli altri sono più giovani di me hanno una grande energia sono strepitosamente bravi però forse invecchiando diventano più veloce anche loro chi lo sa non lo so non lo so siamo un po' dei cacacazzi direttori di fotografia insomma delle volte lo diventiamo delle volte siamo nervosi e poi a volte abbiamo perfette sintonie con la nostra truppa a volte no sono cose così sono sempre insomma io cerco di creare un clima sereno nella mia truppa però se non ti sbaglia il fuoco no no se mi sbaglio il fuoco io lo capisco assolutamente il fuoco si può sbagliare alla decima volta che sbagli il fuoco ci sono due possibilità della stessa inquadratura o ho sbagliato io nell'impostare la scena o sbaglio il focus puller però c'è voglio dire c'è sbagliano tutti si può sbagliare altro il focus puller poi sono dei mostri quello che fanno quelli bravi sono assolutamente dei mostri io non sarei mai stato in grado di farlo mai non sono mai stato un bravo focus puller l'ho fatto poco ma non non ho avuto neanche modo di capire se sarei stato un bravo focus puller oggi non lo sono mai insomma è mostruoso quello che fanno nel mantenere a fuoco un personaggio con così tanto poca profondità di campo ma loro vanno ormai a istinto? ci sono gli strumenti adesso monitor con picking che ti danno la possibilità di capire però alcuni vanno a occhio altri vanno a distinto altri mescolano l'occhio e l'istinto il cine tape e il picking e raggiungono in qualche modo un risultato però insomma alcuni sono veramente bravissimi tu hai realizzato delle scene con dei soggetti particolarmente crudi la violenza che ti ritrovi in camera è una cosa che ti tocca la fai entrare la tieni fuori come ti relazioni a quello che succede in camera? ma guarda no la violenza non difficilmente mi entra come emozione quando la giriamo c'è talmente tanta tecnica nelle scene action di violenza dietro che è difficile che fisicamente ti arrivi come perché perché lavoriamo su trucchi su modi di raccontare insomma per cui diciamo che è emozionante il risultato finale della scena montata quello potrebbe colpirmi può colpirmi diciamo che più più questa viene adattata a un racconto vero più questo mi colpisce ora la caratteristica fondamentale di Gomorra per esempio in quanto serie è che praticamente purtroppo tutte le violenze che noi abbiamo raccontato sono realmente avvenute e molte volte sono avvenute in maniera più afferrata di come abbiamo raccontato noi perché perché la realtà ci ha spessissimo superato e quello mi colpisce sapere che la violenza della criminalità è molto più più cruda più aspra di quello che noi raccontiamo nelle nostre storie quello sì quello mi fa male quando dici che cerchi di avere uno sguardo amorevole o uno sguardo dolce nei confronti di certi soggetti cioè come come impatta nel tuo modo di inquadrare e di raccontare rispetto a delle scene crude ma guarda in realtà anche i personaggi più violenti devono avere una loro forza narrativa hanno una forza narrativa per cui ci sono comunque ai due ai due ai due modi di approcciare come dire i personaggi che rappresentano gli attori con cui lavoro alcuni li ami in favolacce devi veramente amarli tutti bambini e grandi quando vedrai il film e spero che sia bellissimo lo capirai in Gomorra non dovevamo amarli come non dovevamo necessariamente amarli in suborra però dovevamo raccontarli in quanto protagonisti importanti di storie poi alcuni personaggi ho amato più di altri io personalmente perché li ho sentiti più in qualche maniera più più emozionanti nel loro percorso narrativo però la loro forza era fondamentale per il racconto quindi dovevo di fondo rispettare l'elemento narrativo e la potenza narrativa di Ciro Di Marzio per quello che è e per quello che ha raccontato nella sua esistenza come personaggio centrale di tre quattro stagioni di Gomorra sicuramente dovevo rispettare e rafforzare la centralità di Pietro Savastano dovevo aiutare a raccontare lo sviluppo del bamboccione di Jenny Savastano in il guerriero Jenny Savastano oppure la potenza di Donna Im ecco questi sono elementi del racconto loro sono un paesaggio fondamentale delle immagini di Gomorra tanto quanto le vele tanto quanto Secondigliano tanto quanto le periferie di Napoli Nord che noi abbiamo raccontato e in questo cioè dovevo emozionarmi nei confronti dei paesaggi di Napoli Nord e nei confronti dei personaggi dei protagonisti di Gomorra lo dovevo fare perché perché se non mi fosse emozionato non avrei potuto raccontarli bene con la forza necessaria sapendo che sono tutti dei pezzi di merda questo senza dubbio perché sono dei pezzi di merda che è quello che racconta alla fine che questi finti eroi che noi raccontiamo per agganciare il pubblico e portarlo da una puntata all'altra dietro un'avventura criminale è fatta di persone che ammazzano la moglie tradiscono gli amici fanno massacrare le loro fidanzate e tradiscono il padre quindi che cosa vogliamo dire dell'aspetto etico di Gomorra raccontiamo come dire un'umanità senza morale quindi tutto ciò che noi esseri umani possiamo solo violentamente criticare tutto questo fa un romanzo criminale che si chiama Gomorra però fa parte anche questo della narrazione della realtà al microsalon fanno la domanda come illumini di solito e rispondi qualcosa del tipo che modificavi delle cose all'interno delle location ma perché erano magari 4 metri distanti e le riproponevi nella stessa location la tua domanda ha due aspetti il primo aspetto è un modo di approccio alle scene che è mio ma l'ho maturato nel tempo io credo che sia anche di altri miei colleghi però insomma diciamo il mio è questo che quando mi immagino una scena mi immagino delle atmosfere per quella scena quindi questa cosa poi man mano che io faccio la preparazione e vedo le location le adatto alla location vera in cui gireremo la scena quindi il primo obiettivo per me è creare questa atmosfera con la luce in quella location quando questa atmosfera è pronta o pronta all'80% si prova con gli attori è chiaro che gli attori per me sono liberi di muoversi nello spazio sono liberi di muoversi nel set possono raggiungere dei luoghi in cui questa atmosfera è più debole più fragile a volte sono troppo scuri a volte sono troppo chiari a volte non ci sono non sono dentro quel mood che io avevo quella emozione che io sto cercando e allora in quel caso modifico però l'idea è prima di tutto loro stessi devono percepire loro stessi attori loro stessi regista loro stessi troupe devono percepire che c'è un'atmosfera e che quell'atmosfera ha una sua forza e questo gli aiuta a recitare ci aiuta a girare ci aiuta a cercare le inquadrature perché metti la macchina in funzione anche di come la luce sottolinea delle cose non solo in funzione di quella inquadratura che avevi pensato nel tuo storyboard scritto o mentale perché è più bella se la metti là c'è già e funziona anche se è spostata di 45 gradi rispetto a quello che avevi pensato questo per quanto riguarda il set poi per quanto riguarda la realtà e ciò che rubo il mio lavoro Pachi Meduri che è lo scenografo di Gomorra e Veronica Fragola che era costumista di Gomorra e Stefano Solli tutti noi abbiamo rubato dalla realtà mesi anni delle prime due stagioni di Gomorra che ho fatto sono state in ricerca nella realtà che cosa vuol dire che io vuol dire che io ho illuminato ogni set cioè non ho acceso solo le lampadine no ma ho sostituito ho amplificato ho corretto ho modificato ho radicalmente distrutto e reinventato la luce di quell'ambiente ma il mio riferimento era a qualcosa che avevo visto là o che avevo visto in quel mondo che era il sole che entrava dalla finestra come poteva essere delle lampadine come poteva essere nelle notti negli esterni notte erano quelle luci che c'erano in profondità che io ho portato più vicino insomma erano colori quei verdi quei blu quei gialli quegli arancioni quel sodio quel mercurio tutta quella roba lì quei neon quella roba lì io la mettevo sul set ma l'ho messa non c'era quindi l'ho costruita la luce però semplicemente se tutti i giri dall'altra parte era di là su un altro terrazzo in un'altra strada in cui noi non stavamo girando però io ho trasformato in qualche modo quella strada in cui stavamo girando come che aveva le caratteristiche architettoniche e fisiche e logistiche per raccontare la nostra scena in quella strada che avevo visto che mi piaceva tantissimo io e Pachi Meduri e Veronica con i suoi costumi e Stefano con le sue inquadrature i suoi movimenti le sue intuizioni quindi abbiamo lavorato su quello amplificando la realtà facendola diventare più emozionante perché il naturalismo e quello che conosci tutti i giorni non è molto emozionante perché l'hai già visto allora siamo riusciti se siamo riusciti a emozionare anche le persone che vivono a Scampia tutti i giorni e i napoletani che conoscono le loro periferie credo che sia anche perché poi abbiamo costruito come dire una sorta di 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 mondo visivo che che li ha colpiti e che però loro riconoscono come vero e che non si aspettavano forse hanno cominciato anche a vedere la loro realtà con altri occhi forse forse nelle criticità quelli con un con un cuore hanno anche pensato cominciato a vedere alcune cose e la voglia di modificarle in meglio in ogni caso da questo abbiamo come dire abbiamo rubato dal cinema americano internazionale di azione la capacità di di affascinare anche visivamente abbiamo provato a farlo anche noi italiani a rifarlo perché voglio dire gli italiani l'hanno fatto tantissimo nel passato diciamo che alla fine degli anni 70 abbiamo perso un pezzo di cinema l'abbiamo ritrovato forse all'inizio degli anni 80 ancora lo mantenevamo poi poi forse stiamo ritrovando qualcosa negli ultimi 6-7 anni abbiamo grandissimi registi in questo momento Paolo Sorrentino Matteo Garrone Emanuele Crialese e poi i giovani che stanno avanzando io amo molto amo molto i film di non l'absus mi viene ecco The Angelis The Angelis amo molto amo molto i suoi film amo molto i film di The Angelis perché 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 raccontano una realtà ma contemporaneamente anche là c'è un sguardo sulla realtà e sono amico e stimo moltissimo il suo collaboratore direttore della fotografia autore della fotografia Ferran Paredes Rubio è uno tra i più giovani di me bravissimi ci sono tanti più giovani di me che sono stati i miei collaboratori che sono bravissimi e sono veramente sono veramente dei talenti in questo momento la cinematografia italiana ha dei grandi talenti adesso che ne so per per Dampir che è una produzione di della Ecole Picture e della Buonell Editore è stato scelto un ragazzo super giovane quasi alla sua prima esperienza è un lungometraggio che arriva dal mondo del videomaking cioè dai video di parkour poi il suo modo di fare è arrivato agli spot tipo per Armani e ha girato un suo progetto sperimentale e adesso è stato scelto per fare la regia di questo Dampir che è quello che bene cioè i giovani stanno arrivando da altre vie allora sì ma certo ma questa cosa succedeva da tempo negli Stati Uniti e non solo anche in Francia ma bene bene perché bisogna rischiare appunto bisogna rischiare dando spazio ai giovani e soprattutto leggendo dove c'è la creatività vedendo e dove trovi una creatività solida utilizzarla sfruttarla per un cinema più moderno e più coraggioso quindi benissimo adesso i film si possono realizzare con budget molto molto più bassi rispetto a un po' di anni fa questa o sì sì e no nel senso sì da un certo punto di vista è vero poi anche no non è vero perché nel momento in cui le tue esigenze crescono c'è bisogno di un tempo tempo e tecnologia e mezzi avere una bellissima scenografia costa quindi avere dei meravigliosi costumi può costare uscire dal realismo e quindi reinventarsi la realtà costa quindi alcune cose possono essere anche molto economiche però questo succedeva anche che ne so negli anni 60 la Nouvelle Valle in cui improvvisamente giravano per strada no Budesufl Godard bianco e nero spezzone di pellicola il 16 mm Jean Rusch i suoi meravigliosi documentari o il cinema insomma ecco c'è stato nel passato è ritornato Cassavetes anche lui sperimentando e girando spezzone di pellicola e fregandosene delle regole più volte nella storia del cinema questa situazione di poter girare in economia ha trasformato il linguaggio poi però quando l'ambizione sale di nuovo il cinema diventa costoso quindi sono due livelli diversi è giusto poter fare un cinema a bassissimo costo che sia pura sperimentazione o grande sperimentazione da cui attingere intelligenza creatività esperienza nuovi linguaggi e dovrebbero produrlo proporlo le nostre i nostri grandi finanziatori avrei il coraggio di andare a rischiare tantissimo devo dire che in qualche misura la terra dell'abbastanza è stata un'esperienza di questo tipo no? cioè Rai Cinema ha rischiato su due sconosciuti facendo un bellissimo film però altre possibilità dovremmo diciamo noi abbiamo vissuto in una terra di nessuno di grande libertà per quel film e io credo che dovrebbe essere proprio una cosa da fare poi c'è bisogno da fare spesso nell'immagine nel racconto insomma registi giovani registi poi contemporaneamente ci vuole anche un altro cinema che sia più corposo quindi di budget più importante per combattere sulla creatività a livello internazionale con con chi con chi ha degli altri mezzi dei mezzi molto più certo potenti è chiaro che le corazzate di alcune grandi produzioni americane noi non siamo in grado di combattere ad armi pari però possiamo fare delle cose molto belle possiamo fare delle cose molto belle per cui loro dicono però guarda questi qua però e però per farlo a volte basta pochissimo una grandissima creatività a volte ci vuole ci vuole ci vuole i mezzi cioè non puoi fare un film di fantascienza non puoi fare un western non puoi fare un film d'epoca in costume non puoi fare non puoi fare Downton Abbey non puoi fare The Crown non puoi fare non puoi fare il trono di spade se non hai dei budget certo perché ci vuole capito ci vogliono dei budget ma dei budget che ti permettono di farlo ci avviciniamo alla fine di questa lunghissima chiacchierata ma come vedi il cinema da qui a dieci anni il tuo mestiere è catapultato da qui io spero di essere sempre sulla corda però adesso voglio anche non esagerare insomma chiaramente non sono più uno dei giovani il mio mestiere sta cambiando io credo che sia radicalmente cambiato con l'avvento del digitale e questo come dicevo prima ha facilitato anche il rinnovamento generazionale tanti giovani cambierà ancora è difficile prevedere perché la tecnologia viaggia velocissima quindi alcune cose che sembravano esplodere tipo il 3d è già morto e nulla ha fatto non ha lasciato traccia onestamente avatar non mi ha mai fatto impazzire e quindi non lo so tante esplosioni tecnologiche poi in realtà sono delle cose che non lasciano una grande traccia io credo sempre che quello che segnerà il futuro sarà la qualità della narrazione raccontare bellissime storie e avere tante idee per questo bisogna essere molto attenti molto curiosi curiosi nei confronti di quello che fanno gli altri di quello che fanno sia i nostri colleghi nel mondo io cerco di vedere più cinema possibile e cerco di vederlo nel grande schermo più possibile perché là capisci veramente la qualità dell'immagine perché sul grande schermo vedi ogni piccolo difetto e quando vedo un film di Roger Dickens non posso che inchinarmi di fronte al grande maestro ma anche quando rivedo un film del passato se cosa è stato recentemente che cosa ho rivisto su grande schermo forse Occellacci Uccellini forse Occellacci Uccellini ma che è che è un capolavoro sotto ogni punto di vista anche nel coraggio nel coraggio visivo nel coraggio di costruire al di fuori delle regole della sintassi canonica del cinema tradizionale un racconto io credo che che dobbiamo essere molto colti e però trasversalmente colti io ammino molto i fratelli di Innocenza perché Fabio e Damiano come dire leggono Pasolini e poi magari non vedono i film di Pasolini ma conoscono di più le poesie paradossalmente e loro sono degli autodidatti e poi conoscono a memoria Kim Ki-duk oppure Gas Van Sant cioè hanno dei riferimenti trasversali totali rispetto al cinema e poi che ne so conoscono tutto Antonioni che è un autore enorme che noi o le nostre giovani generazioni conoscono molto poco perché è difficile perché è lento eppure la lentezza è una grandissima qualità nel cinema la lentezza è il silenzio e il silenzio per esempio è una cosa che non esiste in televisione o perlomeno in una certa televisione io ammiro molto il coraggio produttivo di Rai Uno però non sanno sopportare una scena senza la musica e il tappeto musicale delle serie di Rai Uno anche quando sono preziose a volte le rende tutte uguali e questa cosa io lo trovo invece io credo che sia la lentezza che il silenzio sono cose estremamente emozionanti che vanno valutate bisogna bisogna capire che bisogna tornare anche ad apprezzare alcune cose di cui abbiamo perso memoria e che quando le ritroveremo ci stupiremo della potenza di questa come dire di un lungo lunghissimo carrello e credo che quando rivedremo interamente al cinema nel nel sacro silenzio di una sala ne so lo stalker di Tarkovsky o Andrei Rublyov nel suo silenzio o anche nella maestosa musica che lo accompagna beh potremmo solo capire che il cinema è riconoscere quanto il cinema è una forma d'arte oltre che intrattenimento tra le due cose noi lavoriamo tra l'intrattenimento e la forma d'arte io spesso faccio intrattenimento qualche volta cerco di attaccarmi a qualche forma d'arte chiacchieravamo prima su che vedere conoscere rifarsi riferimenti io non posso capito di fronte a un'immagine di Vermeer non posso non fermarmi e ammirare la bellezza dell'atmosfera dei quadri di Vermeer riuscire ad arrivarci un giorno in qualche momento in qualche scena sarebbe basterebbe quello riuscire ad emozionare in quel modo in quel modo con dell'immagine noi siamo sempre a metà tra la still photography e la fotografia per il cinema il racconto al servizio del racconto di un altro ma con questa cosa in mano potentissima che è l'immagine il cinema senza immagini i film le serie senza immagini non esisto per cui guarda caso siamo abbastanza indispensabili ti ringrazio infinitamente per questa chiacchierata se la guarderanno tanti giovani tante nuove leve che stanno entrando in questo settore che come dicevi tu hanno tanta energia tanta voglia e in queste chiacchierate loro trovano spunti trovano entusiasmo forza trovano cultura trovano un modo più profondo di vivere la professione ma io me lo auguro cioè io ripeto credo di averlo già detto il mio maestro Carlo Di Palma diceva io devo sapere tutto della tecnica ma non sono un tecnico beh in fondo è questo capito la tecnica uno la deve conoscere e poi gettarsela alle spalle pensare al risultato l'unica cosa che vale è quello che sta dentro quel rettangolo lì che si è visto su un piccolo schermo su un medio schermo su un grande schermo su un enorme schermo quella roba là è l'unica cosa che conta un'altra birra? sì ecco vai